benvenuto a tutti a questo nuovo video oggi parliamo del simulatore con avatar 2 che nessuno conosce e dove lo troveremo sul nostro cellulare senza bisogno di collegare fili cavi o altre cose è una versione beta tra virgolette perché di funzionalità ne ancora poche però possiamo passarci un po di tempo a divertirci dobbiamo installare sul udito dite play store quello diciamo ufficiale io lo sto provando su android ma dovrebbe funzionare anche su ios e andiamo a scaricare dji store una volta installato lo apriamo accettiamo tutti i termini non ci scriviamo a nessun programma e non abilitiamo le notifiche ok qui come vedete ci sono tutti i prodotti appena usciti dji la cosa che dobbiamo fare è andare a iscriverci nel nostro account effettuiamo il login con i nostri dati ok una volta effettuato il login e i dati da inserire sono quelli del vostro account dji andiamo in questa freccetta qua in basso nelle novità e guardate cosa troviamo qua virtual flight prova l'ebrezza di un volo immersivo con avatar 2 giriamo il cellulare e come vedete sta caricando il nostro giochino piccolo quesito è perché avete ancora il controller vecchio se lavata è il 2 diciamo che dji ogni tanto qualche buco nell'acqua lo fa ed eccoci arrivati a questo fantastico simulatore dji con il nostro avada 2 e le montagne partiamo e ci fa un piccolo tutorial come vedete va controllato con le dita vai su e vai giù questo è il gas poi lo io a destra e a sinistra perfetto poi ci fa vedere come volare in avanti e indietro e poi come muoversi a destra e a sinistra congratulazioni ho superato il tutorial e ora ci fa vedere le funzioni automatiche come le facciamo schiacciando questi tastini mentre andiamo l'unica che non ci fa quanto capito è il drift comunque come vedete la manualità è sport non è acro e poi quello che ci resta da fare è andare a prendere tutti i nostri target che sono ben 21 e intanto imparare un po le funzioni di avatar allora sicuramente questo non serve a chi non sa volare modalità acro come poteva essere il vecchio simulatore dji però sono sicuro che poi lo implementeranno anche perché poi qua usiamo i pollici e nella realtà non usiamo i pollici penso che sia e spero soprattutto la base di qualcosa di più concreto e diciamo completo anche nel futuro perché questo è decisamente poco come simulatore però la grafica non è male stiamo pilotando un avatar 2 e poi ci promettono aggiornamenti costanti quindi non è neanche così facile all'inizio stare dentro cerchi giganteschi che ci sono però diciamo che come non schiantarsi basta mollare tutto il drone frena bellissimo scenario puntuoso cerchiamo di non si prende un target basta tornare indietro ok 16 su 21 sono quasi arrivati alla fine anche l'audio devo ancora capire cos'è successo 19 20 eccoci all'ultimo perfetto abbiamo complicato come se mi vuole poi c'è di esplorare le rovine del tempio vi faccio vedere un'altra delle poche funzioni che abbiamo a disposizione in questo momento ovvero il cambio di visuale questo diventa un fpv vero sempre in modalità però sport quindi non è proprio un fpv stabilizzato vedete missione completata adesso abbiamo le due missioni di volo completate ma non è facilissimo volare coi pollici sinceramente non è neanche così entusiasmante però come vedete è un nuovo simulatore DJI che sicuramente non è completo sicuramente non è dei più entusiasmanti ma è comunque una novità e spero che sia la base per qualcosa di veramente veramente figo perché secondo me a simulatori DJI per il momento è un po' deludente e soprattutto sarebbe un bel aiuto a chi si vuole cimentare per la prima volta nell'fpv questo fantastico mondo e per dire io dall'inizio vi seguo e vi aiuto con un bel simulatore cosa che non è ancora riuscito a fare nel passato né con questo che però secondo me è una versione diciamo beta per qualcosa di meglio vi dico solo che il virtual flight che c'era non è neanche ancora compatibile col remote 2 quindi è rimasto ancora al remote 1 e al DJI FPV quindi sicuramente da rivedere come al solito per non perdervi queste e tante altre chicche mettete un bel like e iscrivetevi al canale perché siamo solo inizio della scoperta di DJI Avata 2 ma non sono tante altre cose ci sono tutti noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao sono mini2 per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra in alto a sinistra c'è il video che youtube consiglia per te in basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone in basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse ti ringrazio di averci seguito fino a qui ora devo andare